Ciao, benvenuti in questo nuovo video, il video della settimana, del profumo della settimana. Questa settimana mi indosserò questo profumo, si chiama Incandescence Lotus. Guardate che bello, questo è molto, cioè è identico praticamente al Candescence, quello classico, solo cambia la colorazione. Allora, mi leggo subito le note olfattive. In Candescence Lotus di Avone, una fragranza del gruppo floreale fruttato Unisexy. È una nuova fragranza che è stata lanciata sul mercato nel 2018. Le note di testa sono mela cotogna, mora ed era. Le note di cuore sono loto, peonia e zenzero e giglio bianco. Le note di base sono note legnose, muschio, vaniglia e violetta. E questo profumo sicuramente è indicato per la stagione primavera. Ed è un profumo veramente buonissimo, buonissimo, veramente delicato ed è anche persistente. Questo è il profumo che mi farà compagnia per tutta la settimana. Se siete interessati ad acquistare questo o un altro profumo di Avone, vi lascerò nell'info box in mio Avone Store, dove potete ordinare qualunque cosa che vi piaccia e mi arriva direttamente a casa vostra. Grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo presto per un altro video. Grazie a tutti.